Siamo in compagnia di Lanzune della Manzoni Sport Andrea, importante vittoria, un derby sentito e un'ottima vittoria sul campo. Sì, un derby lo possiamo anche chiamare così perché ci sono dall'altra parte persone che conosciamo, amici sicuramente, però quando ci sono gli amici dall'altro lato è ancora più sentita la partita. E' andata bene che abbiamo vinto 3-1, ci siamo divertiti anche, è stata una bella partita combattuta. In certi parti del match è mancata un po' di concentrazione, mancava qualcosa per far proprio questa partita? Sì, appunto come tutte le partite, arriva un punto che ci manca quella spinta in più, quel pizzico di grinta in più per poter chiudere il set o i set. La prossima settimana un altro impegno importante, continuerete ancora una volta a fare bene? Questo ce l'auguriamo e vedremo la prossima partita come andrà. In bocca al lupo. Grazie.